buongiorno ragazzi quest'oggi dopo essere partito la pianta di limone volevo fare l'unica la prima casetta per la nuova cava ok qui vediamo qua sotto abbiamo questo legno che l'avevo preso apposta per quello incominciamo a dare duite spero che ne venga almeno una se le mie due forse è meglio un pochettino cosa riesco a combinare come sempre devo svuotare il mio caos che c'è qui accendermi la luce anche se piccolina ma mi aiuta un sacco e prepararmi una penna e un righello adesso sarà la nostra misura per cui avremo il nostro personaggio la porta la farò sienno da qui con leggermente uno di centimetri più alta ok e poi vediamo come ragionarsela cerco un po' di dare un po' di senso giusto a questa casa che sia in proporzione alle altre cose che devo portare in campagna per farvi capire questa è la facciata principale dove faremo la porta ok questo non ve l'ha toccato qua sarà il tetto spiovente in questo modo non troppo perché non siamo spioventi si fanno nei paesi molto nordici ma noi non lo siamo perché non ci frega niente tagliamo questo pezzo noi riproduciamo un'altra parte e sappiamo dove per cercare di non consumare troppo legno perché se lo faccio qua qua posso fare un altro e potrei avere fortuna di sfruttare questo qua per il tetto e forse una riusciamo a farla vediamo un pochettino eccolo qua primo pezzo tagliato adesso riproduco un altro pezzo qua e sto provando di farla così larga tutta questa parte qua sopra facciamola il laterale così facciamo due finestre e via dicendo sì bene bene ora facciamo un'altra qui e dovrei a occhio che il tetto più o meno è largo per una per parte così circa adesso vi dico la mia misura circa col metro un po storto dobbiamo avere 11 ma lo facciamo un po spiovente andiamo a 12 un centimetro per essere un po più spiovente più bellino adesso mi ricalco questo mi traccio una rega qua ok così tagliamo oggi per fare due tagli questo e questo e come arriviamo e magari dopo questo qua prepariamo anche l'altro e poi vediamo un pochettino come viene la grandiline ecco di qua tutto tagliato adesso procediamo a costruire il tutto abbiamo parte anteriore e posteriore i due laterali e il tetto per scusare questi vecchi sotticadenti per fare finire intorno alle porte le finestre poi vi farò capire bene cosa voglio fare il modello questo è fatto un po più precisino e rimbara come sempre in campagna purtroppo in un foglio ne è venuta una va bene non importa so che ne verrà una ci sta non si spende neanche tanto mi sa che ho pagato 4 euro quel foglio lì dai 5 euro con collo e tutto va bene la casettina ci sta adesso procediamo alla chiusura di tutti i quattro lati purtroppo dovrò incollarla e magari se riesco a metterci qualche rinforzione dietro con qualche vitina sto pensando ma ho mai ragione bene per lo spaccare il legname vediamo come viene a tra poco e qua queste vitine dovrei riuscire con le mie belle di tina a incastrare qua se riesco queste piccoline qua forse riesco a fare un bel lavoro per cui lei più la colla dovrei tenere molto 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 meglio il caldo estivo per cui anche se certi articoli il caldo estivo l'ha tenuto bene anche se era PLA sia un po fuso ma la colla ha retto bene forse c'era troppo poco in quei punti che avevo messo avevo fatto diciamo che siano scollati per non essere grezzi grezzi diamogli una bella levigatina con il mouse giusto intorno perché vedete c'è qualche screpolatura almeno siamo così grezzi come dobbiamo essere credo che ho visto che così lunga mi sembrava più una chiesa che una casa ho dimezzato direttamente il lato della casa ok cosa era più piccolina dimezzerò naturalmente il tetto e poi forse forse potrò avere la fortuna di farmi altri due di questi magari più piccolini più bassi sempre per far entrare il personaggio ma l'altezza magari fino a qua forse riesco a farne due perché il lato lungo era troppo troppo ragazzi c'è vista così mi sembrava una chiesettina di quella di campagna troppo esagerata i chiodini stanno tenendo poi li rinforzerò con della colla e procediamo ai lavori i lavori procedono cosa ho fatto la porta l'ho tagliata gli ho messo questa cornice e la porta l'ho diciamo incollata più fuori poi finestrella poi qua metterò dei sufficienti fini fini per fare la casica croce delle finestre sta ancora incollando ok posteriormente niente lateralmente possiamo mettere un tipo un super piccola verandina per la legna quello che volete una piccola tettone diciamo piccolo camminetto lì in alto adesso devo passare tutto l'impregnante o valuterò se passarli qualche tipo di altre vernici di un pochettino come farla più che casetta mi sembra un magazzino vabbè per fare scena ci può anche stare perché boh avrei fatto forse una porticina una finestra stiamo un po la prossima cosa faremo è un pochettino la situation allora se procedere anche dato un po di impregnante per cui i colori sono un po cambiati anche i bordini che avevo fatto guardate di questo impegnante che ho dato almeno se avesse mai piovere succederà che pioverà non si rovina non si marcisce ok il tetto l'ho fatto grigio ok il vernicio grigio poi devo rifare bene la finestrina qui e la porta qui per dare comunque un senso di stacco almeno si capisce la differenza tra le cose poi ho dato in quale impregnante che mi si asciuga e tentiamo di farne un'altra più piccolina magari bisogna fare casetta e magazzino stiamo un po come come viene la situazione speriamo un pochetto qua vedete che è ancora umido stiamo un po che asciuga e poi continuiamo i lavori per adesso per cui questo qua possiamo dire che è magazzino dai più che casa non mi piace facciamo un magazzinetto questo va e poi faremo una casettina tanto abbiamo metà di quello per facciare le palette laterali dobbiamo magari se riusciamo o usiamo questa parte qua per fare due parti così oppure questa però ci mancherebbe il tetto è insomma ho fatto così qua dividiamo in due vengono le parti anteriore posteriore o che è l'entrata e questo verrebbe il tetto per cui ci dovremmo stare forse la casettina più piccolo possiamo farla questo è troppo alto ma più casa finile busto non so comunque dai ci sta ci sta come idea e farne due magari viene anche bene mentre qua sopra se ci stanno così ho una base unica rimane un po più fatta a terra e ho ancora meno vita cosa che va al casino che ha fatto l'alluvione cosa che mi andrebbe bene da supportare bene che asciughi tutto poi procederò alla nuova tracciatura nuovi tagli e poi concludiamo insieme questa avventura di queste nuove accessori casette per la nuova cavo in vigna ho iniziato a preparare questi nuovi pezzi e se sto studiando come fare la casetta giusto non ho un'idea momentaneamente testa vuota la proviamo ad assemblare per capire un po cosa ne esce fuori e poi le uniremo al magazzino e abbiamo fatto di là per queste avete questa idea di farla così dato che l'avevo già verniciata per fortuna ho sempre queste parti più grigie per cui lasciamo la porta aperta facciamo una piccola mensolina e questa sarebbe l'entrata della casetta tetto piano ragazzi niente di che non sto a impazzire col tetto perché il tetto fatto di là mi sembrava tra chiesa e magazzino per cui avevo dovuto fare più finestre più fori che rendevano più l'idea della casa per cui questa rimane piana se vediamo un po come ragionarcela tutta incollata inchiodata lo messo qua così mantiene bene come si incolla tra vivete l'angolo a 90 gradi rimane più o meno giusto adesso facciamo la tettoia il tetto e vediamo un po come continuare se ho qualche idea mentre vado avanti con i lavori avete visto che avevo una pedana libera ho trovato un pezzo di mochetti l'ho messo sopra adesso provo a sistemare un pochettino le casette almeno ho in un'unica soluzione tutto non devo stare a montare e smontare fissuto in un posto e si arrangiano sto volando se mettere così e poi il limite ci legna sotto questa metterla così così c'è l'entrata qui davanti a maria metto un po di recensione se ne ho devo guardare un po in giro una cava magari oppure spostarla un po così posso recintare tutto tanto e non male i personaggi per finta possono passare lì in mezzo qua chiudiamo qui rimane al limite la lasciamo proprio così la recensione la posso chiudere da qui e chiudere questo pezzo qua dietro sistema magari un po la cadetta indietro al limite ok vediamo come viene così adesso ragioniamo un po come tagliare questo recintare tutto questo parto con la la scuola è un'ape con la prima fase il taglio delle bocchette in eccesso allora l'idea è questa la recensione dietro che corre lascia un piccolo spazietto dietro il magazzino vedete poi abbiamo sistemato il magazzino li metteremo magari qualche accessorio la reticella dovrà penso a farla correre anche in questo senso ok chiudiamo bene qui davanti qui la metteremo più bassa e adesso questo pezzo qui lo inserisco qua ok qua a fianco la casetta che viene questa parte la colla a caldo per questo abbiamo se dovrei avere anche qualche pino io voglio mettere qua qualche alberello e basta diciamo così qui e potrebbe essere un magazzino di gabuzzi non so non importa basta che faccia l'accessorio e va benissimo ci qua il termine di questo un nuovo accessorio per la cava come abbiamo detto abbiamo fatto magazzino una piccola casetta ufficio possiamo chiamarla come vogliamo po di residui di colla poi abbiamo vabbè magazzino è chiuso la porticina tutto chiuso il camminetto eventualmente poi abbiamo una tettoia per mettere materiali sotto poi vedremo quando si va in cava cosa mettere casettina con pluviale qui tra virgolette per fare un po di scena con le porticine aperte giriamo intorno una tutta la recensione che parte dal lato della casa basta una parte posteriore con un alberello messo lì poi abbiamo qui la recensione che continua sempre quella alta se notate qui è la recensione alta e invece come andiamo qui davanti abbiamo la recensione bassa alberillino che continua lì ok tanto qui alla fine tra virgolette entra chi deve entrare e via questa è la nostra nuova accessoria casetta con magazzino non pezzi di recupero totalmente siamo un 50 di recupero un 50 avevo acquistato questi pezzini per fare qua questi questi accessori diciamo ma il resto come vedete dice le recupero la pedale recupero questo turno recupero degli alberi li ho comprati e via per due ragazzi detto questo deve essere porta in cava come tutto il resto sistemare in qualche punto e ragazzi questa idea fate quello che volete e auguro una buona giornata a tutti ciao